Ehi la, eccomi qua, avevo promesso che vi sarei collegata una volta al giorno e sto cercando di farla e farlo e quello che avevo promesso era che avrei risposto ad alcune domande che mi arrivano ricorrenti, d'accordo? Le domande mi arrivano su questa pagina sotto forma di messaggio, sotto forma di email, quindi potete scrivere anche voi, fare chiedere quello che volete compatibilmente naturalmente. Allora, la risposta a questa domanda è una delle domande diciamo così più ricorrenti che dicevo, cioè Alessandro tu ci insegni la respirazione, la posizione della bocca, la maschera, la voce mista, il vibrato e quello e quell'altro. Ma quando si canta, che si inizia a cantare sul palcoscenico, dobbiamo veramente pensare a tutte queste cose qui? Perché molto spesso, e qui arriva la domanda, scusate, la domanda un po' malvagia è ma io quando arrivo lì sono talmente preso dalle cose che non ci penso più e non mi vengono. Ecco che qui scatta la maestra malvagia che è in me e naturalmente il mio discorso è questo. Allora, quando si sale sul palcoscenico per cantare, per provare queste cose, o un palcoscenico va benissimo, un karaoke o qualsiasi cosa, però parliamo un po' di palcoscenico che è la situazione un pochino più impegnativa, no? Allora, se io devo pensare 1, 2, 3, 4, 5, tutti i passettini che so di dover fare per cantare correttamente, quindi la respirazione, quindi la posizione, quindi sciogli la postura, attenzione adesso la voce va in maschera, è ovvio che la mia performance diventerà assolutamente insignificante, tecnicosa se va bene, se va male solo panico, aiuto, non viene niente, d'accordo? Quindi il punto qual è però? Che devo dimenticarmi di tutto, attenzione che se io salgo sul palcoscenico e mi dimentico degli aspetti tecnici, significa che gli aspetti tecnici non sono assolutamente consolidati dentro di me, cioè il punto è che io non mi posso dimenticare di respirare correttamente per cantare, altrimenti non sto cantando in maniera efficiente, sto cantando alla come viene, viene, che Dio me la mandi buona, ok? Il che se per qualcuno che non ha conoscenze della voce, ovviamente significa, io ho sempre cantato così, mi è sempre venuto, il concetto è che ti viene perché grazie a Dio non hai mai perso il contatto con il movimento corretto, della respirazione, della tecnica, del modo in cui il tuo corpo si muove in maniera naturale, grazie Veronica, grazie mille, dicevo il tuo corpo si muove in maniera naturale per cantare e quindi ti viene così, attenzione che questa cosa non vada mai via, come una volta, non è che te la sto gufando, ci mancherebbe altro, però una volta una grandissima cantante mi disse, quando faceva lezione a una ragazza, io ero lì presente, mi disse, vedi questa ragazza sta lavorando con il capitale e non con gli interessi, all'epoca ero ragazzina, non capì una mazza di quello che mi stava dicendo, ma è stata così potente questa frase che mi è rimasta forte dentro, cosa vuol dire lavorare con il capitale e non con gli interessi e in realtà non doverlo fare? Angel, grazie tesoro. Vuol dire che se tu hai una voce naturale di tu o non hai perso nel crescere la competenza di usare anche in maniera inconsapevole la muscolatura, attenzione che però tu nel fare questo tu non vada a logorare il tuo strumento, in realtà va messo a frutto, bisogna sviluppare le conoscenze necessarie e far fruttare il tutto appunto portando avanti gli interessi, cioè la voce deve essere coltivata in modo tale da lavorare sempre in funzione di costruirla, renderla più efficace, d'accordo? Però da qui a dire io salgo sul palcoscenico e tutto il tempo sto a pensare a queste cose, è chiaro che non rende niente di funzionale. Il lavoro, infatti chi viene a studiare canto con me, o i boh, povero lui, sa che io non faccio cantare le canzoni per un lungo periodo, non si impara a cantare con le canzoni, bisogna imparare con le basi e non significa neanche stare otto mesi a fare un'unica cosa, però significa che se tu butti la tua voce immediatamente con un sacco di input, quindi il testo, i punti dove respirare, poi tutto quello che riguarda l'interpretazione, è chiaro che non puoi riuscire a tenere tutto sotto controllo e diventi quella sorta di macchinetta che deve cercare di tenere tutto a mente e che poi quando sale sul palco, bau, si dimentica tutto. Quindi si arriva a lavorare sulle canzoni quando la respirazione ti è diventata un po' una seconda natura, cioè riesci a respirare in quel modo sereno e tranquillo senza bisogno di pensarci, o meglio ci pensi solo nei momenti in cui hai bisogno di più, che ne so, sai che come ti sei messo dei post-it al cervello, sai che in quei punti lì hai bisogno di un'attenzione maggiore, stessa cosa vale per la maschera, ci sono dei punti dove rimangono accese delle specie di spie nella mente ma che in realtà sono piccoli punti dove si torna a questo livello base della tecnica, il resto deve essere assorbito, deve essere stato affrontato a livello di studio precedente in modo tale che quando tu sali sul palco la tua concentrazione non debba essere su quello, insomma in fin dei conti la gente che paga per venirti a sentire, o anche chi non paga ma si ritrova a sentirti al karaoke, non viene a sentirti per sentire le tue problematiche, viene a sentire ciò che tu hai da trasmettere, ok? E questo vale anche per te, cioè se tu lo fai per te stesso, sali su quel palco perché ti diverti tu, e che questa è la cosa che auguro a tutti, anche se il palco, ripeto, è il karaoke di qualsiasi situazione si tratti, vuoi divertirti, non vuoi stare lì a soffrire delle difficoltà che hai, fisiche, tecniche, eccetera, quindi la tecnica deve essere un lavoro da fare a monte e c'è modo di farla anche uno presto, due bene, tre divertendosi, ok? Io naturalmente, come sempre, sto a dire che ho pubblicato il mio corso di canto, che questo corso è per tutti, che non sono richieste conoscenze specifiche, ma che parla a tutti, no? Tra i miei allievi ci sono dei grandi cantanti, ci sono dei famosi doppiatori e ci sono delle persone che non hanno mai cantato, ci sono persone dai 70 anni in su, un allievo di 71 anni, e io lo adoro, e ci sono ragazzi di 13, d'accordo? Perché è per tutti, ok? Perché è un linguaggio, quello che uso io, che parla proprio di competenza fisica, del modo in cui rapidamente ottenere dei risultati. Quel corso lo trovate sul sito cantafinalestelle.com, sul mio sito personale alessandracartocci.com c'è un sacco di materiale, questo, il corso, è molto altro, d'accordo? Quindi, però mi raccomando, ricordatevi che quando salite sul palco deve essere il momento in cui traete i frutti del lavoro che avete fatto. Il lavoro è da fare a monte, non al monte, a monte, va fatto precedentemente, d'accordo? E deve essere fatto in un modo così profondo, e ripeto, profondo non vuol dire che ci vogliano così tanti tempi, chissà che tempi, in realtà ho visto persone che mi hanno pubblicato dei feedback, che già in una settimana erano riusciti a stravolgere completamente, e rendere molto più efficace la propria voce, quindi è possibile fare delle grandi cose in poco tempo. Però l'importante è non pensare di risolvere tutto insieme cantando, ok? Né pensare che quando sei sul palco tu debba tenere a mente la guida del bravo Boy Scout per tenere a mente la tecnica, d'accordo? Ok, se avete altre domande, postatele, i prossimi giorni mi ricollego. Besos!